Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come fare lo slime. Gli ingredienti sono pochissimi. La colla trasparente, il bicarbonato, la soluzione salina e il colorante alimentare che se non lo avete non fa niente perché non cambia la consistenza dello slime. Allora, iniziamo aggiungendo la colla. Io aggiungo tutto il tubetto perché lo voglio fare abbastanza grande. Voi aggiungetene quanto ne volete in base a quanto volete fare lo slime grande. Ci sono quasi, lo aggiungo proprio fino all'ultima croccia. Ok. Adesso aggiungo poco bicarbonato perché altrimenti diventa duro lo slime. Proprio così li guardate. E mescoliamo. Ok, adesso aggiungo la soluzione salina che va ad addensare tutto. e un po' alla volta lo aggiungo e mescoliamo. Aggiungiamo un'altra soluzione salina. Già sta venendo, però aggiungiamone ancora di più in modo che viene più denso. Ok, adesso direi che è quasi pronto per prenderlo in mano lo slime. Forse ho fatto la soluzione salina. Ok, mi bagno le mani con la soluzione salina altrimenti si appiccica. Ok, prendiamolo. Ok, prendiamolo. Direi che lo slime è pronto per prenderlo in mano. Allora, adesso lo scappo tutto. Ok, mi sta cadendo un po' fuori. Non si mangia. Aggiungo l'altra soluzione salina perché è un po' appiccicoso. Lo prendo tutto per non lasciarci neanche un po'. Lo prendo tutto per non lasciarci neanche un po'. E direi che adesso è il momento di aggiungere il colorante e io aggiungo quello blu. E se volete potete aggiungere anche un po' di decorazioni tipo glitter, però io in questo caso non li aggiungo. Ok, io direi che lo slime è riuscito. Ciao a tutti. Perfettamente. È riuscito perfettamente. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.